Andiamo a vedere i selezionatori di prima mattina? Dopo la sigaretta, dopo il monte bianco, ovvero marocchino espressino, una sigaretina e poi pronti per i nostri gesti, da Mirko a tutto. Ci facciamo uno spritz? Adesso, alle 8 del mattino. Un commento sul futuro prospero nel tuo caso, specialmente? Spero di sopravvivere all'estate con questa fama. Eccoci, sono pronto. La pomposa? Grazie a tutti.